53. Si è rotto un braccio Mio figlio soffre sin dalla nascita di una malattia chiamata analgesia congenita. Se cade dalla bici si rialza senza lamentarsi perché non avverte dolore. Eppure ha le gambe sbucciate. Se cade da un albero non si lamenta anche se è ferito. Quando si è rotto un braccio non si è accorto di nulla perché non ha provato dolore. Non sente né il freddo né il caldo. Per i compagni mio figlio è Nembo Kid ma lui ne è inconsapevole. Commento L'analgesia congenita non è una malattia. Per i maestri la malattia non esiste. Esiste l'esperienza dolorosa che l'analgesia congenita comporta per chi soffre e per chi si occupa di lui. L'uomo è coscienza avvolta dalla conoscenza. La conoscenza è l'analgesia congenita. La coscienza è l'esperienza dell'analgesia congenita. La coscienza è l'esperienza dell'analgesia congenita. La coscienza è l'esperienza dell'analgesia. La coscienza è l'esperienza dell'analgesia congenita. Grazie a tutti